le tradizioni sono importanti c'è un pazzone che lo dice sempre è la terza volta che ci troviamo in questo bagno quest'anno ci troviamo d'estate una volta ci siamo trovati a dicembre del 2012 poi una volta a febbraio e ora ci troviamo a luglio sempre il stesso bagno coperte l'altra volta raccoglie coperte d'estate un po' troppo ma un po' forzata e allora andiamo a raccogliere il bagno è sempre bello quando è il bagno andiamo a incontrare gli amici sempre sentatori positivi sempre secondo del sommare sempre giro tavola sempre dal bagno parte il video non voglio troppa nome andrea roberto bella ti chiami ti chiami? ti chiami? ti chiami? ti chiami? daniano prima edizione yes che voglio? un drink che vogliono bene ti chiamo dopo nome? salvatore edizione? terza edizione quante volte quante volte due io presento due questa è la seconda come te senti questo senso di vuoto? nome? bella si vuoto come te? che devo fare? siglia sempre la preferita ammazza o Anna Lisa detta anche Anna Laisa terza edizione 3 su 3 all in Gaetano la mia prima volta la prima volta la prima volta la prima volta e poi? prima si chiama prima si chiama prima Gianluca di che nome? prima di nome da Osta da Osta no no da? da Umbi ma Cavani resta o non resta? resta Cavani secondo lui resta lui una chiami tu nome? Giorgia Luca 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 e a tre Piotte Francesco Cavalli nazionale un atleta secondo te sto mal che sulla moto ci ha messo il decivone per vederlo si deve mettere tutto in piega no? in tanti se ne sono andati ma in tanti sono passati una macchina è già piena Monica sei dei nostri? certo ci ha portato pure io non mi permettevo nome? Dubai Andrea Dubai qua ne abbiamo una parte l'altra ce l'abbiamo in macchina perché la festa alle otto e mezza no? ma siccome vaga il presidente non si fa mancare niente e secondo me sta male bella la rima eh è bella ci si arriva da 38 anni stupendi ostentatori positivi fare qualcosa per qualcuno non ci conoscevamo tutti un'occasione per uscire fuori dal web un'occasione per pensare a chi ha molto meno culo di noi a chi la sera non c'ha un tetto non c'ha scelta e stasera quantomeno gli amici della comunità di Sant'Egidio snazzicano da bere e non offre gli diamo con il core almeno un qualcosa uno zero virgola e secondo te stavo male siamo gente dei valori bella per noi da meglio viva la vita mazza che verbo è molto più importante questo dalla verba da Dubai che io